Akutagawa Ryunosuke. K. Introduzione. Questa è la storia che un paziente dell'ospedale psichiatrico, il numero 23, racconta a chiunque. Avrà 30 anni o poco più, ma a prima vista sembra un pazzo molto più giovane. Per metà della sua vita lui? Beh, questo non è poi così importante. Era stato a lungo a raccontare la sua storia a me e al dottoresse, il primario dell'ospedale. Si teneva avvinghiate entrambe le ginocchia, mentre ogni tanto gettava uno sguardo fuori, da quella finestra, protetta da un'inferriata, si vedeva una quercia, ormai senza nemmeno più una foglia secca, allungare i suoi rami verso un cielo che minacciava neve da un momento all'altro, non mancando di sottolineare il suo racconto con ampi gesti. Per esempio, quando diceva «avevo paura» gettava violentemente la testa all'indietro. Ora ho intenzione di annotare fedelmente il suo racconto. E in caso a qualcuno non bastasse il mio resoconto, lo invito a bussare alla porta dell'ospedale psichiatrico SD20, appena fuori Tokyo. Numero 23 per prima cosa vi saluterà cordialmente e vi indicherà una sedia senza cuscino, poi vi racconterà la storia che segue con un sorriso malinconico sul viso. E quando avrà finito, oh, ricordo ancora l'espressione sul suo volto quando finì di raccontarmi la sua storia. Dicevo, quando avrà finito, si alzerà di scatto e, agitando il pugno, vi urlerà qualcosa tipo «vattene via, delinquente!» Anche tu sei solo una bestia egoista, invidiosa, oscena, pornografica, spudorata e boriosa. Vattene via, criminale. Ma lo fa con tutti. Uno, accade tre anni fa. Come tanti altri, avevo lo zaino in spalla e stavo per cominciare a salire il Monte Otaka dal versante dove c'è l'albergo termale di Kamikoki. Senza dubbio saprete che, per raggiungere il Monte Otaka, non c'è altro modo che risalire il fiume Azusa. Prima del Monte Otaka ovviamente avevo già scalato lo Yarigatake, per cui procedevo senza alcuna guida nella valle dell'Oazusa sotto una coltree di nebbia mattutina. Dico sotto, perché quella nebbia sull'Oazusa non accennava a diradarsi. Al contrario, stava diventando sempre più fitta. Dopo più o meno un'ora di cammino meditai di tornare all'albergo di Kamikoki, ma anche qualora mi fossi deciso a rientrare avrei dovuto aspettare che la nebbia si alzasse un po'. Invece si fece ancora più densa. Bah, procediamo, pensai addentrandomi in una foresta di bambucuma, badando di non allontanarmi troppo dalla valle dell'Oazusa. Ma davanti ai miei occhi c'era solo una coltree di nebbia fitta. Di tanto in tanto si intravedevano i rami dalle foglie fresche di ulmi e abeti. All'improvviso mi si pararono davanti dei cavalli e dei buoi al pascolo, ma non feci in tempo a vederli che scomparvero nuovamente nella nebbia. Le mie gambe si muovevano sempre più faticosamente e iniziavo ad avere fame. Come se non bastasse, anche i miei vestiti da montagna e la coperta si erano impregnati di nebbia e iniziavano a pesarmi. Alla fine rinunciai a proseguire oltre e cominciai a ridiscendere la valle dell'Oazusa, affidandomi al suono dell'acqua che si infrangeva sulle rocce. Mi sedetti su una roccia sulla riva del fiume e per prima cosa mi preparai qualcosa da mangiare. Tra l'aprire la scatoletta di corned beef e la ricerca di qualche ramo per accendere il fuoco saranno passati dieci minuti. Nel mentre, quella nebbia dispettosa aveva iniziato lentamente a diradarsi. Intento a masticare del pane diedi un'occhiata all'orologio, era già l'una e venti. Ma ciò che più mi sorprese fu l'immagine di una faccia dall'aspetto bizzarro che si era riflessa sul vetro rotondo del mio orologio da polso. Mi voltai stupefatto. Fu in quell'istante che, per la prima volta, vidi un K in carne e ossa. Se ne stava appollaiato sulla roccia dietro la mia, identico a quelli che si vedono nelle illustrazioni, e mi osservava incuriosito. Con una mano stringeva un ramo di betulla, mentre con l'altra si riparava gli occhi. Rimasi immobile per qualche momento, trattenendo il fiato. E il K, probabilmente sorpreso anch'esso, non mosse nemmeno la mano con cui si riparava. Poi, non appena balzai in piedi, provai a gettarmi su di lui, ma nello stesso istante corse via. O meglio, ebbi l'impressione che fosse corso via. In realtà era scomparso nel nulla con un agile movimento del corpo. Sempre più incredulo spostai lo sguardo verso la foresta di bambucuma. Lo vidi rivolto verso di me, distante due o tre metri, pronto a fuggire. Di per sé non aveva niente di strano. Ciò che invece era fuori dall'ordinario era il colore del suo corpo. Quando mi osservava sulla roccia tutto il suo corpo era grigio, mentre ora era interamente verde. Bestiaccia, urlai, avventandomi ancora su di lui. Ovviamente il K riprese la sua fuga. Gli diedi ostinatamente la caccia per mezz'ora, su e giù per la foresta di bambù e le rocce. Quel K correva velocissimo, non aveva niente da invidiare a una scimmia. Nella frenesia dell'inseguimento rischiai più di una volta di perderlo di vista. Scivolai e rovinai a terra diverse volte, ma quando giunsi ai piedi di un ipocastano dai rami imponenti, per fortuna un bue che pascolava da quelle parti gli tagliò la strada. Aveva delle corna enormi e gli occhi iniettati di sangue. Quando se lo trovò davanti il K urlò spaventato e ruzzolò in mezzo al bosco di alte canne di bambucuma. Sei fregato, pensai. Poi mi avvicinai, cercando di prenderlo alle spalle, ma evidentemente c'era un buco di cui non mi ero accorto. Così, proprio quando ero sul punto di sfiorare con la punta delle dita la pelle liscia del K, precipitai a capofitto nel buio più profondo. Ma anche nelle situazioni di grande pericolo la mente umana è in grado di aggrapparsi alle cose più impensabili. Mentre cadevo, mi ricordai di un ponte nelle vicinanze dell'albergo kamikoki che si chiamava K-bashi, ponte dei K. E poi, e poi non ricordo più niente. Davanti ai miei occhi apparvero come delle specie di lampi, e un attimo dopo persi conoscenza. Due, quando finalmente mi risvegliai ero disteso supino, circondato da una moltitudine di K. Non solo, ma uno di loro, con un paio di occhiali a molla sopra il grosso becco, era in ginocchio accanto a me e mi auscultava il cuore con uno stetoscopio. Non appena mi vide aprire gli occhi mi fece un gesto con la mano, come a volermi dire calmo, poi si rivolse a un K dietro di lui, Quax, Quax gli disse. A quel punto arrivarono altri due K che trasportavano una barella. Mi fecero stendere su di essa, quindi mi portarono silenziosamente da qualche parte per una manciata di ciaccia o, in mezzo a un mucchio di altri K. Il quartiere che potevo scorgere da entrambi i lati era identico a Ginza, all'ombra degli Olmi si susseguiva una serie ininterrotta di negozi, tutti con le loro tende da sole, e per la strada sfrecciavano numerose automobili. Alla fine la barella si infilò in un vicolo stretto e mi ritrovai in una casa. Solo in seguito seppi che apparteneva a quel K con gli occhiali, era la casa del medico Cech. Cech mi fece coricare su un lettino ordinato e mi fece bere un bicchierino di una medicina trasparente. Una volta disteso sul letto, lasciai che Cech facesse ciò che voleva. O meglio, in realtà era il mio corpo a essere così dolorante che non riuscivo neanche a muovermi. E così Cech prese a venire da me due o tre volte al giorno per visitarmi. E una volta ogni tre giorni veniva a trovarmi anche il K che avevo visto all'inizio, si trattava del pescatore Bag. I K sanno degli umani molte più cose di quanto gli umani ne conoscano di loro, forse perché riescono a catturare molti più umani di quanti K riusciamo a catturare noi. E benché non possano esattamente essere definiti «catturati», sono in tanti gli umani a essere giunti nel paese dei K prima di me. Non solo, ma sono in molti anche a essersi stabiliti lì per il resto della loro vita. Sapete perché? Perché il solo fatto di essere degli umani e non K permette di poter mangiare senza dover muovere un dito. Stando a quanto racconta Bag, dopo essersi ritrovato per caso nel paese dei K un giovane manovale sposò una K femmina e rimase lì fino alla fine dei suoi giorni. C'è anche da dire che quella K era la più bella del paese, e la sapeva molto lunga su come ingannare il giovane marito manovale. Dopo una settimana mi trasferì in una casa vicina a quella di Cecchi in qualità di «residente sotto tutela speciale», secondo le leggi del paese. La mia casa era piccolina, ma aveva molto buon gusto. Ovviamente non c'era molta differenza tra la cultura di questo paese e la nostra, perlomeno la cultura giapponese. Nell'angolo del salotto che dava sulla strada c'era un piccolo pianoforte, e sulle pareti c'erano appese delle incisioni all'acqua forte. Ma soprattutto, ogni cosa in quella casa, dalle sedie ai tavoli, era fatta su misura dei K. Era come se fossi entrato in una stanza dei bambini, ed era piuttosto scomodo. Ogni giorno, quando il sole tramontava, mi riunivo in quella stanza assieme a Cecchi e Beg per studiare la lingua dei K. Anzi no, non solo con loro. Poiché destavo la curiosità di tutti per il mio status di «presidente sotto tutela speciale», ogni giorno spuntava anche Gair, il presidente di una vetreria, che veniva con la scusa di farsi controllare la pressione da Cecchi. Tuttavia, nei miei primi sei mesi di permanenza, colui con cui entrai maggiormente in confidenza fu il pescatore Beg. Un giorno, durante un tiepido tramonto estivo, ero seduto al tavolo della mia stanza, di fronte al pescatore. A un certo punto Beg tacque improvvisamente, come se gli fosse venuto in mente qualcosa, dopodiché spalancò i suoi enormi occhi e cominciò a fissarmi. Rimasi interdetto, poi gli dissi «Quax, Beg, quoquel, quan». Cioè «Ehi, Beg, che ti succede?» Nessuna risposta. Non solo, ma tutto a un tratto balzò in piedi, tirò fuori la lingua e assunse una postura come quella di un rospo irritato in procinto di attaccare. Mi sentì minacciato, così iniziai pian piano ad alzarmi dalla sedia, pronto a sgusciare fuori dalla porta. Per fortuna in quel preciso momento arrivò il dottor Cech. «Ehi, Beg, si può sapere che stai facendo», gli fece con uno sguardo severo, gli occhiali a molla ben piantati sul becco. Beg apparve molto imbarazzato e si scusò più volte, portandosi le mani alla testa. «Vi chiedo scusa». Ho visto che l'espressione spaventata del Signore era divertente, e alla fine mi sa che ho esagerato. Chiedo perdono anche a voi, Signore. 3. Prima di continuare con il mio racconto, devo spiegarvi cosa sono i K. Ancora ci si chiede se esistano veramente o meno, ma visto che io stesso ho vissuto tra di loro non dovrebbe esserci più alcun dubbio. A proposito, le mani e i piedi palmati, e naturalmente i capelli corti sulla testa, non li rendono troppo diversi da quelli descritti nel suo Icocoriacu 78. Sono alti circa un metro e, secondo il medico Cech, pesano dai 10 ai 20 chili, anche se mi spiegava che i K giganti arrivano a raggiungere i 40 chili. Inoltre in cima alla testa hanno una sorta di piatto di forma ovale che indurisce con il passare degli anni. E in effetti, al tatto, la consistenza del piatto del vecchietto Bega era completamente diversa da quella del più giovane Cech. Ma la cosa più sorprendente è il colore della loro pelle. La pelle dei K, infatti, non ha un colore fisso come quella degli esseri umani, ma cambia a seconda dell'ambiente circostante. Per esempio quando sono nell'erba la pelle assume la colorazione verde dell'erba, mentre se si trovano su una roccia diventano grigi come quella roccia. Certo, la cosa non succede solo con i K ma anche con i camaleonti. Forse i K hanno qualcosa in comune con i camaleonti nei tessuti della pelle. Quando scoprì questo fenomeno mi tornò in mente un trattato di etnologia dove si diceva che i K del nord avevano la pelle rossa, mentre la pelle dei K del sud era verde. Ciò mi ricordò anche che, quando lo inseguivo, Bega era scomparso nel nulla come se si fosse improvvisamente volatilizzato. Inoltre sotto la pelle i K devono avere uno strato di grasso molto spesso, visto che la temperatura del loro paese sotterraneo è piuttosto bassa, con una media di circa 50 gradi Fahrenheit 79, e che non sanno cosa siano i vestiti, anche se tutti indossano gli occhiali e hanno sempre con loro una scatoletta di sigari e il portafoglio. Poiché sulla pancia dispongono di una sorta di marsupio, come quello dei canguri, non hanno alcun problema a portarsi appresso tutta quella roba. La cosa che però trovai divertente fu che non indossavano niente nemmeno attorno alla vita. Una volta chiesi a Bega il perché di questa abitudine. Questi scoppiò a ridere fragorosamente, cadendo all'indietro, poi mi rispose, per me invece siete voi a essere buffo, così coperto. 4. Piano piano cominciai a imparare le parole che i K usano nella vita di tutti i giorni, per cui presi familiarità anche con i loro usi e costumi. Ma la loro abitudine più assurda è che trovano estremamente divertente ciò che per noi umani è molto serio, e nel contempo trovano molto serio ciò che fa ridere noi. Per esempio noi consideriamo serie cose come la morale o la giustizia, ma quando ne parlai ai K loro si piegarono in due dalle risate. In poche parole hanno un concetto di assurdo completamente diverso dal nostro. Una volta provai a parlare con il medico Chuck del controllo delle nascite. Questi spalancò la sua enorme bocca e rise così tanto che quasi gli caddero gli occhiali che aveva sul becco. Ovviamente mi infuriai e lo incalzai domandandogli cosa ci trovasse di tanto divertente. Se non ricordo male, la risposta di Chuck fu più o meno la seguente, ma potrei aver travisato qualche particolare visto che allora ancora non sapevo così bene la lingua dei K, rido perché è ridicolo pensare esclusivamente alla convenienza dei genitori. È davvero da egoisti. Per contro, visto con gli occhi degli esseri umani, non c'è niente di più ridicolo del parto delle K. Dopo qualche tempo andai nella piccola stanza di Begg per assistere al parto della moglie. Anche i K partoriscono come noi umani, con l'aiuto di un dottore e di un'ostetrica. Ma nel momento del parto il padre appoggia la bocca sui genitali della madre, come se fosse al telefono, e chiede ad alta voce, vuoi davvero venire al mondo? Pensaci bene, poi rispondimi. Chiaramente anche Begg si inginocchiò e ripetè più volte la stessa domanda, poi fece dei risciacqui con un liquido medicinale che si trovava sul tavolo. In quel momento dall'interno del grembo della madre il piccolo rispose sottovoce, forse per soggezione, non voglio nascere. Ho paura di ereditare qualche malattia mentale da mio padre. E poi credo che vivere da K sarebbe una brutta cosa. Quando sentì quella risposta, Begg si passò una mano sulla testa, come imbarazzato, ma l'ostetrica che era lì con loro provvide subito a inserire nei genitali della moglie di Begg un grosso tubo di vetro e a iniettarvi uno strano liquido. La moglie fece un profondo sospiro di sollievo. Nello stesso istante la sua pancia, che fino a quel momento era stata enorme, si sgonfiò a poco a poco come un pallone aerostatico che perdeva idrogeno. Come si evince da quella risposta, i piccoli di K sono in grado di camminare e parlare già appena nati. Una volta Chuck mi raccontò che uno di essi a 26 giorni aveva tenuto una conferenza sull'esistenza di Dio, ma purtroppo era morto al secondo mese di vita. Visto che ho raccontato del parto parlerò anche di un grosso manifesto che mi capitò di vedere per caso in un angolo del quartiere durante il mio terzo mese di permanenza nel paese. Sulla parte inferiore c'erano disegnati 12 o 13 K che brandivano delle spade o suonavano delle trombe, mentre sulla parte superiore c'erano dei caratteri della lingua dei K, con delle forme a spirale proprio come le molle degli orologi. Tradotti, quei caratteri dicevano grosso modo quanto segue. Anche stavolta, qua e la potrebbero esserci dei piccoli errori, ma in ogni caso ho annotato per filo e per segno quanto mi aveva letto ad alta voce lo studente Rep, che stava passeggiando assieme a me. Miglioriamo la nostra ereditarietà. K è in salute, cercansi volontari per sposare K malati e debellare l'ereditarietà cattiva. Ovviamente anche quella volta dissi a Rep che da noi una cosa così non potrebbe mai succedere. Allora non solo lui, ma tutti i K nelle vicinanze scoppiarono a ridere. Non potrebbe mai succedere? Ma non mi avevate detto proprio voi che il vostro modo di pensare è come il nostro? Allora per quale motivo alcuni figli di papà si innamorano delle servette, o delle giovani fanciulle si innamorano dei vetturini? Inconsapevolmente anche loro contribuiscono a debellare l'ereditarietà cattiva. E se li paragoniamo a quei volontari che si ammazzano tra di loro per un pezzo di ferrovia 80, come ci avete raccontato di recente, non sono forse più nobili i nostri? Mentre parlava Rep era serio, ma la sua grossa pancia continuava a ondeggiare per le risate. Io, invece di ridere, ero impegnato a inseguire un K perché mi ero accorto che, mentre ero distratto, mi aveva fregato la stilografica. Ma a causa della sua pelle viscida non era per niente facile afferrarlo. Non appena lo acchiappai mi sgusciò via dalle mani e fuggì, barcollando quasi al punto di cadere con il suo corpo magro come quello di una zanzara. 5. Quel K di nome Rep si prese cura di meno meno di Bag. Come potrei dimenticarmi di quando mi presentò il K Tok? Tok era un poeta, e portava i capelli lunghi non diversamente dai nostri poeti. Ogni tanto andavo a trovarlo a casa sua per ammazzare il tempo. Tok conduceva una vita oltremodo spensierata, a scrivere poesie e a fumare in una piccola stanza decorata con vasi di piante montane. E in un angolo della camera una K, Tok era per l'amore libero, quindi non aveva moglie, che sembrava intenta a cucire. Ogni volta che mi vedeva spuntare Tok sorrideva, il sorriso dei K non era così bello, anzi, all'inizio mi inquietava parecchio, e mi diceva, oh, benvenuto. Prego, siediti pure lì. Mi parlava spesso della vita e dell'arte dei K. Secondo lui non c'era niente di più stupido della vita del K medio. Genitori, figli, mogli, fratelli, tutti vivono con l'unico scopo di tormentarsi a vicenda. In particolare trovava molto stupido il sistema familiare. Una volta indicò fuori dalla finestra, guarda che idiozia, mi fece disgustato. Per strada c'era un giovane K che camminava trafelato con appesi al collo 7 o 8 K, maschi e femmine, compresi i suoi genitori. Io invece ne lo dai la dedizione, ammirato dallo spirito di sacrificio di quel giovane. UMP è, allora anche tu hai tutti i requisiti per diventare cittadino di questo paese. Non sarai per caso un socialista? Qua. Che in linguaggio K significa grosso modo, proprio così, fu la mia ovvia risposta. Allora che si sacrifichi un genio in favore di 100 individui mediocre non dovrebbe toccarti, giusto? Qual è il tuo pensiero, invece? Qualcuno mi ha detto che il tuo principio ispiratore è l'anarchia. Io? Io sono un superuomo, traduzione diretta di Super K, rispose orgogliosamente Tok. Aveva una sua idea particolare anche dell'arte. Stando alle sue convinzioni lo scopo dell'arte era l'arte stessa e non doveva piegarsi a nessun controllo, di conseguenza l'artista doveva essere prima di tutto un superuomo, al di là del bene e del male. Tuttavia questa non era l'opinione del solo Tok. Anche i suoi colleghi poeti condividevano grosso modo la stessa idea. In realtà andavo spesso al circolo di Super K assieme a Tok. In quel circolo si radunavano poeti, romanzieri, drammaturghi, critici, pittori, musicisti, scultori e semplici appassionati d'arte. Ma tutti pur sempre Super K. Di solito discutevano amabilmente nel salone illuminato dalle luci elettriche, ma talvolta capitava che qualcuno mostrasse troppo orgogliosamente la propria natura di Super K. Per esempio, una volta uno scultore saltò addosso a un giovane K e lo sodomizzò per togliersi lo sfizio. In un'altra occasione una scrittrice salì sopra un tavolo e si scolò 60 fiaschette di assenzio, ma una volta traccannata la sessantesima rovinò giù dal tavolo e morì sul colpo. In una bella notte di luna uscì dal circolo dei Super K a braccetto con il poeta Tok. Era insolitamente cupo e non proferiva parola. Dopo qualche istante passammo davanti a una finestra illuminata. Dentro c'erano un maschio e una femmina K, probabilmente marito e moglie, assieme a tre piccoli. Erano seduti a tavola a cenare. Improvvisamente Tok sospirò e mi disse, lo ammetto, sarò pure un Super K Don Giovanni, ma quando vedo famiglie come questa provo molta invidia. E non ti sembra contraddittoria, come idea? Tok, illuminato dalla luce della luna e sempre tenendomi a braccetto, continuava a fissare quei 5 K cenare sereni attorno al tavolo. Poi, dopo qualche istante, mi rispose, ma è perché quella frittata che vedi è decisamente più salutare dell'amore. Sei. Effettivamente l'innamoramento dei K è molto diverso rispetto a quello degli esseri umani. Non appena una femmina trova un maschio non si fa problemi a prenderlo. Addirittura le più candide arrivano al punto di mettersi a inseguire il maschio desiderato. Una volta mi è capitato di vedere una femmina K correre dietro al maschio come indemoniata. E non solo lei, ma anche i genitori e i fratelli lo inseguivano. Povero maschio K! Anche qualora avesse avuto la fortuna di non farsi acchiappare, dopo una corsa del genere sarebbe dovuto rimanere a letto per due o tre mesi. Un giorno ero a casa mia a leggere delle poesie di Top quando sopraggiunse di corsa lo studente rap. Ruzzolo dentro e, ancora disteso sul pavimento mi disse, tutto trafelato, aiuto. Mi ha abbracciato. Immediatamente lasciai cadere il libro di poesie e chiusi la porta a chiave. Ma quando diedi un'occhiata dal buco della serratura vidi una femmina K, di bassa statura e con il viso colorato con polvere di zolfo, camminare avanti e indietro sulla mia porta. Da quel giorno e per qualche settimana Rap rimase a dormire sul pavimento di casa mia. Come se non bastasse, in quei giorni a Rap cadde il becco, ormai del tutto marcito. Certo, ogni tanto capita anche che i maschi K corrano ardentemente dietro alla femmina, ma in realtà anche in quei casi è la femmina che li costringe a non avere altra scelta. Una volta mi capitò di vedere un K correre dietro a una femmina come impazzito. Eppure, mentre lei fuggiva, ogni tanto si fermava e si metteva a quattro zampe. Poi, quando decise che era arrivato il momento propizio, si lasciò prendere facilmente mostrando però un'espressione delusa. Il K l'abbracciò e i due rimasero alcuni istanti a rotolare per terra. E quando lui si rialzò sul viso aveva un'espressione afflitta, un misto indescrivibile di delusione e pentimento. Ma dopo tutto questo andava ancora bene. Un'altra volta vidi un piccolo K inseguire una femmina. Come al solito lei fuggiva in modo provocante, quando ecco che da un angolo si avvicinò sbuffando un grosso K. Non appena la femmina lo vide cominciò a strillare con una voce tagliente, aiuto! Aiuto! Quel K mi vuole uccidere! Com'è ovvio, il K grosso afferrò quello piccolo e lo stritolò in mezzo alla strada. Il piccolo K agitò due o tre volte le mani palmate e infine morì, mentre la femmina sogghignava, saldamente aggrappata al collo del K grosso. Quasi come se si fossero messi d'accordo tutti i K maschi che conoscevo io furono inseguiti dalle femmine. Persino Begg, che aveva moglie e figli, fu in balia delle K due o tre volte. Solo il filosofo Meg, il vicino di casa del poeta Toc, non era mai stato preso. Forse perché di K inguardabili come lui non ce n'erano poi molti. E anche perché se ne stava sempre in casa, mettendo di rado il muso fuori. Ogni tanto andavo a trovarlo. Era rintanato in una stanza semibuia, illuminata solo da una lanterna di vetro multicolore, a leggere libri spessissimi. Una volta discussi con lui sull'amore dei K. Come mai il governo non si mostra più severo contro le femmine K che inseguono i maschi? Perché tra i funzionari di governo ci sono pochissime femmine, e sono molto più gelose dei maschi. Se aumentassero il numero di funzionari e le femmine smetterebbero sicuramente di inseguire i maschi, ma sapete quale sarebbe l'effetto collaterale? Che a venire inseguiti comincerebbero a essere i funzionari maschi? Allora il segreto della felicità è vivere come te. Meg si alzò dalla sedia, mi prese entrambe le mani e mi disse sospirando, voi probabilmente non capirete, perché non siete un K, ma in qualche modo anche a me piacerebbe essere inseguito da quelle terribili femmine. 7. Assieme al poeta Toc andai a sentire molti concerti, ma quello che accade al terzo ancora non riesco a dimenticarlo. La sala non era molto diversa da quelle giapponesi. C'erano 300 o 400 K, maschi e femmine, che ascoltavano rapiti, tutti con il programma tra le mani. In quel terzo concerto, seduti in prima fila, c'eravamo io, Toc accompagnato dall'amica, e il filosofo Meg. Finita l'esibizione del violoncellista, salì sul palcoscenico un K dagli occhi insolitamente sottili, aveva un'aria disinvolta e tra le mani stringeva una partitura di musica tradizionale. Quel K, come indicava il programma, era il celeberrimo compositore Krabak. Ho detto, come indicava il programma, ma non avevo avuto bisogno di consultarlo. Krabak era membro dello stesso circolo di Super K di Toc, per cui anch'io lo conoscevo di vista. Krabak, lead, anche nel loro paese sui programmi dei concerti apparivano molte parole tedesche, durante l'applauso Krabak ci fece un cenno di saluto, poi si diresse con calma al pianoforte e cominciò a suonare con naturalezza il lead che lui stesso aveva composto. Stando a quanto mi aveva detto Toc, Krabak era un genio anche paragonato con i vecchi musicisti di quel paese. Visto che mi interessavano non solo le sue musiche, ma anche le poesie che componeva di tanto in tanto, ascoltai con trasporto il suono che usciva dalla cassa aperta del grande pianoforte a coda. Anche Toc e Meg erano estasiati, forse ancora più di me. Solo una bella K, bella per i gusti dei K, perlomeno, con in mano il programma ogni tanto tirava fuori la lunga lingua, con aria scocciata. Meg poi mi raccontò che, una decina di anni prima, quella stessa femmina non era riuscita a prendere Krabak, così ce l'aveva ancora con il musicista. Krabak suonava con grande trasporto fisico, come se stesse lottando contro il piano stesso. Quando, all'improvviso, per tutta la sala risuonò una voce simile a un tuono. Il concerto è finito. Sorpreso, mi voltai istintivamente. La voce proveniva senza dubbio da un poliziotto molto alto che sedeva in ultima fila. Il concerto è finito, ripete senza scomporsi, più forte di prima. Poi. Poi scoppiò il pandemonio. È un abuso di potere. Suona, Krabak. Suona. Stupido. Bastardo. Nel mentre le sedie cominciarono a cadere e i programmi a volare, dopodiché qualcuno iniziò a lanciare sassi, bottiglie di sidro, addirittura di cetrioli smangiucchiati. Ero sbalordito e provai a chiedere a Top cosa aveva provocato tutto questo, ma anche lui si era fatto trasportare dagli eventi, e dopo essere scattato in piedi dalla poltrona urlò, dai, Krabak, suona. Suona. Persino la cappa di prima, forse scordandosi di avercela con Krabak, prese a gridare non meno intensamente di Tok, è un abuso di potere. Alla fine non mi rimase altro da fare che chiedere a Meg, che cosa sta succedendo. Oh, qui succede spesso. Di solito con l'arte e la letteratura. Meg piegò la testa per evitare qualcosa che gli stava volando addosso, poi continuò a spiegarmi tutto tranquillo, dicevo, di solito chiunque può capire per quale scopo si realizza un'opera d'arte o un'opera di letteratura, per cui nel nostro paese non c'è alcun divieto per le pubblicazioni o le mostre. Però possono vietare i concerti, perché quando si tratta di musica i K che non hanno orecchio non capiscono quando un brano va contro la pubblica morale oppure no. E quel poliziotto ha orecchio? Beh, chi può dirlo? Magari quella melodia gli ha ricordato il battito del suo cuore quando dorme con sua moglie. Mentre parlavamo la confusione aumentava sempre più. Krabak si voltò verso di noi con fierezza, rimanendo seduto di fronte al pianoforte. Ma per quanto orgoglioso fosse, doveva per forza di cose schivare gli oggetti che gli arrivavano addosso, quindi il suo stato d'animo cambiava ogni due per tre. Tuttavia continuava ad assistere agli eventi con i suoi occhi piccoli e ardenti, mantenendo il contemio proprio del grande musicista che era, mentre io... Beh, io per evitare il pericolo mi ero messo accanto a Tok, come se fosse un piccolo scudo. Ma, incuriosito com'ero, continuai comunque a discutere appassionatamente con Meg. Ma censurare in questo modo non è violento? Voi dite? A me sembra una censura molto più evoluta di quanto si vede in altri paesi. Prendete il Giappone, per esempio. Nemmeno un mese fa. Purtroppo, proprio nel bel mezzo della frase, gli cadde sulla testa una bottiglia vuota. Fece solo in tempo a dire, quack! Un'esclamazione, poi perse conoscenza. Otto, stranamente nutrivo una certa simpatia verso Gaer, il presidente della vetreria. Lui era, il, capitalista tra i capitalisti. Senza dubbio in quel paese non c'era alcun kappa con una pancia grossa come la sua. Eppure, seduto comodamente su un divano, tra la moglie che sembrava un litchi e il figlio che aveva l'aspetto di un cetriolo, era l'essenza stessa della felicità. Ogni tanto ero andato a cena a casa sua, accompagnato dal giudice Peppe e dal medico Cech. Grazie a una sua lettera di raccomandazione ero persino riuscito a visitare le numerose fabbriche sue e quelle dei suoi amici in cui aveva comunque qualche coinvolgimento. Tra queste trovai particolarmente interessante quella che produceva libri. Andai a visitarla accompagnato da un giovane ingegnere, e quando vidi un grosso macchinario alimentato a energia idroelettrica mi meravigliai di quanto progredita fosse l'industria meccanica di quel posto. Mi dissero che producevano sette milioni di libri all'anno. Ma a stupirmi non fu il numero dei volumi, a produrne in quella quantità non ci voleva nulla. Ciò che mi meravigliò fu che per realizzarli bastava gettare la carta, l'inchiostro e una polvere grigia, la materia prima insomma, in una bocca a forma d'imbuto della macchina, e in nemmeno cinque minuti uscivano svariate copie in ottavo, in dodicesimo e in sedicesimo. Mentre osservavo i libri fluire come una cascata chiesi a quell'ingegnere tutto impettito che cosa fosse la polvere grigia. Appoggiato davanti a quella macchina di un nero lucente mi rispose un po' annoiato, questa? È cervello di asino. Proprio così? Basta ridurlo in polvere dopo averlo fatto essiccare. Al momento costa due o tre sena tonnellata. Ovviamente questo miracolo industriale non si applicava al solo ambito editoriale, ma succedeva lo stesso anche per la produzione artistica e musicale. Inoltre, secondo quanto mi raccontò Gaer, venivano inventate 7-800 macchine di nuova concezione al mese, che producevano enormi quantità di oggetti a ritmi vertiginosi e senza bisogno di personale. Di conseguenza ogni mese si licenziavano non meno di 40 o 50 mila operai. Ciò nonostante, benché leggessi il giornale ogni mattina, la parola «shopero» non saltava mai fuori. Mi sembrava strano, per cui una sera che mi trovavo a cena da Gaer con Peppe e Cech provai a domandarne loro il motivo. «Perché li mangiamo tutti» e disse Gaer senza troppi patemi, mentre fumava un sigaro. Io però non capì cosa intendesse con «li mangiamo». Da dietro gli occhiali che aveva sul becco Cech notò la mia perplessità e, avvicinatosi a me, mi spiegò, gli operai licenziati vengono uccisi e usati come carne per il cibo. Ecco, guardate questo giornale, questo mese sono stati licenziati 64.769 operai, per cui il prezzo della carne è calato. E gli operai si fanno uccidere così, senza dire una parola? Agitarsi non servirebbe a nulla. «Abbiamo una legge sulla macellazione degli operai» fece Pep scuro in viso, davanti a un vaso di albero della cera. Naturalmente ne fui disgustato. Mentre, com'è ovvio, al padrone di casa Gaer, a Peppe e a Cech la cosa sembrò del tutto normale, tanto che Cech mi disse, con un sorriso come di scherno, «in questo modo risolviamo a livello statale tutti gli inconvenienti che deriverebbero dalla morte per fame o per suicidio. Non soffrono molto, semplicemente facciamo respirare loro del gas velenoso. Però. Mangiare la loro carne. Andiamo, se vi sentisse Meg, chissà quanto riderebbe. Non è forse vero che anche nel vostro paese le figlie dei proletari si prostituiscono? Scandalizzarsi perché si mangia la carne degli operai è solo sentimentalismo». Mentre ascoltava la nostra conversazione, Gaer prese il vassoio di sandwich sul tavolo che aveva accanto e, porgendomene uno, mi disse tranquillo, «prego, prendetene uno. Anche qui c'è la loro carne». Ovviamente ne fui scioccato. Ma non fu l'unica cosa che fei. Balzai fuori dalla casa di Gaer mentre Peppe e Cech mi ridevano dietro. Quella notte minacciava tempesta, nel cielo sopra il quartiere non brillava nemmeno una stella. Mentre tornavo a casa immerso nel buio vomitai ininterrottamente. E il bianco del mio vomito si vedeva persino in quell'oscurità. 9. Eppure il presidente della vetreria Gaer era senza dubbio un K molto gradevole. Spesso andavo con lui nel circolo di cui era membro per passare la serata in allegria. Ci andavo perché, rispetto al circolo per super K di cui era membro Talk, era decisamente più confortevole. E sebbene i discorsi di Gaer non avessero la profondità di quelli del filosofo Meg, mi mostrarono un mondo completamente nuovo. Un mondo più vasto. Gaer era solito parlare allegramente del più e del meno, rimestando un cucchiaino d'oro nella tazzina del caffè. In una notte di nebbia fitta lo ascoltavo parlare mentre osservavo un vaso di elebori. Ricordo che tutta la stanza, inclusi le sedie e il tavolo, era decorata come in stile secessione, in bianco con dei contorni dorati. Gaer, con un viso ancora più allegro del solito, parlava del partito Quorax, all'epoca in carica. Quorax era una parola che non aveva un significato particolare, era un'esclamazione traducibile non diversamente da, ei. In ogni caso si trattava di un partito il cui slogan era, per il bene di tutti K. Colui che guida il partito è il famoso politico Roppe. L'onestà è la migliore politica estera, diceva Bismarck. Ma Roppe la estende anche alla politica interna. Ma, nel suo discorso. Ascoltatemi, quel discorso era naturalmente una grossa bugia. Ma visto che questo lo sanno tutti, in definitiva è come se fosse stato onesto, quindi ostinarsi a considerarlo bugiardo è solo un vostro pregiudizio. Se noi K fossimo come voi, oh, non importa. Ora ciò che mi interessa è parlare di Roppe. Dicevo, Roppe guida il partito Quorax, ma a guidare Roppe è Quicui, direttore del quotidiano Pufu, anche questa parola è un'esclamazione senza un significato preciso. Si potrebbe tradurre con, ah! E a sua volta Quicui non può essere capo di se stesso. Chi controlla Quicui è Gaer, colui che avete di fronte. Però, scusate, il giornale Pufu non dovrebbe essere dalla parte dei lavoratori? Ma se a controllare il direttore Quicui siete voi, allora? Naturalmente i giornalisti del Pufu sono dalla parte dei lavoratori. Ma a capo dei giornalisti non c'è nessuno all'infuori di Quicui, e tuttavia Quicui non può fare a meno del supporto del sottoscritto, fece Gaer giocherellando con il cucchiaino d'oro. Mentre lo guardavo, più che provare odio nei suoi confronti provavo compassione verso i giornalisti del Pufu. Gaer si accorse di ciò che provavo dal mio silenzio e, gonfiando la sua grossa pancia, mi disse, comunque non tutti i giornalisti del Pufu sono dalla parte dei lavoratori. Perché noi K, più che agli altri, pensiamo prima di tutto a noi stessi. Ma volete sapere qual è la peggior seccatura? Che persino io, Gaer, ho qualcuno che mi comanda. E sapete chi è? È mia moglie, la bellissima signora Gaer. Gaer rise sonoramente. Siete piuttosto fortunato, allora. Sono soddisfatto lo stesso. Però posso parlarne liberamente solo con voi, che non siete un K. Quindi, in poche parole, il capo del partito Quorax è la signora Gaer. Beh, diciamo di sì. Però la guerra che scoppiò sette anni fa fu senza dubbio causata da una K. Una guerra? Anche in questo paese ci sono le guerre. Certo. E ce ne saranno altre. Almeno finché ci saranno confini tra paesi. Fu in quel momento che mi accorsi per la prima volta che anche il paese dei K non era affatto isolato. Stando a quanto mi raccontò Gaer, i K avevano nelle Lontre i loro nemici di sempre. Per di più i loro armamenti non avevano nulla da invidiare a quelli dei K. Provavo un profondo interesse per la guerra tra i K e le Lontre, anche perché, che le Lontre fossero le acerrime nemiche dei K ovviamente non lo sapevano né il curatore del suico Coriaco, né Yanagita Kunio, l'autore dei racconti popolari di Yamashima. Naturalmente i due stati si tenevano reciprocamente d'occhio ben prima dell'inizio della guerra, perché in un certo senso l'uno aveva paura dell'altro. Un giorno una Lontra che risiedeva nel nostro paese fece visita a una coppia di K. Lei però voleva uccidere suo marito, perché era un incorreggibile libertino. E forse era tentata anche perché aveva un'assicurazione sulla vita. Voi li conoscevate? Solo lui. Secondo mia moglie era un K malvagio. Ma se chiedete a me, era solo un pazzo con tante manie di persecuzione, terrorizzato a morte dalle femmine K. Comunque, la moglie versò nella tazza di cioccolata del marito del cianuro di potassio. Ma, forse per errore, lo fece bere alla Lontra. Ovviamente la Lontra morì. E così? E così scoppiò la guerra? Purtroppo sì. Quella era una Lontra decorata. E chi ha vinto la guerra? Il nostro paese, ovviamente. Caddero 369.500 K coraggiosi. Ma in confronto alle perdite del nemico non furono molte. Le pellicce che si trovano in questo paese sono quasi tutte di Lontra. Io stesso, durante la guerra, oltre a produrre vetri inviavo della cenere di carbone al fronte. Cenere di carbone? E per cosa? Come provviste, naturalmente. Quando abbiamo fame noi K mangiamo di tutto. Però questo, senza offesa per i K al fronte, nel nostro paese sarebbe uno scandalo. Senza dubbio lo sarebbe stato anche nel nostro, ma visto che a dirlo sono stato io stesso, nessuno si è scandalizzato. Come dice anche il filosofo Meg, ammetti le tue malefatte e queste svaniranno da sé. E poi l'ho fatto non solo per il mio interesse, ma perché ardo di spirito patriottico. Proprio in quell'istante entrò uno dei camerieri del circolo. Dopo aver salutato Gair gli disse, come se leggesse ad alta voce, c'è un incendio nella casa vicina alla vostra. Un incendio? Gair balzò in piedi per lo spavento e io, ovviamente, feci lo stesso. Ma il cameriere aggiunse impassibile, ma è già stato spento. Mentre guardava il cameriere allontanarsi, Gair aveva un'espressione a metà tra il pianto e un sorriso. Quando la vidi sul suo volto mi ricordai che per qualche momento l'avevo odiato, quel presidente della vetreria. Ora, però, Gair non era quel grande capitalista, ma un K qualsiasi che se ne stava in piedi davanti a me. Sfilai dal vaso un eleboro e glielo misi in mano. Avranno anche spento l'incendio, ma vostra moglie sarà ancora spaventata. Ecco, datele questo quando tornate. Vi ringrazio. Gair mi prese la mano, poi ridacchiò improvvisamente e mi sussurrò, quella casa è di mia proprietà. Prenderò i soldi dell'assicurazione. Il sorriso che aveva in quel momento, non riuscì a compatirlo, è vero, ma ricordo chiaramente che non arrivai nemmeno a odiarlo. Dieci, che succede? Sei giù di corda oggi? Era il giorno dopo l'incendio. Stavo fumando un sigaro e chiacchieravo con lo studente Rep, seduto su una delle poltrone del mio salotto. Se ne stava con le gambe accavallate a fissare il pavimento distrattamente, tanto che non riuscivo nemmeno a vedere il suo becco marcito. Rep, mi vuoi dire che cos'hai? Ma no, non è niente. Fece mesto lui con una voce nasale, alzando finalmente lo sguardo da terra. Oggi guardavo fuori dalla finestra e senza pensare ho sussurrato, toh, una pianta carnivora. Allora mia sorella ha cambiato di colpo colore e sapete come mi ha risposto? Ah, e così sarei una pianta carnivora, eh. Come se non bastasse lei è pure la preferita di nostra madre, così mi perseguiteranno. E cosa avresti detto di male a tua sorella, parlando di piante carnivore? Boh, forse avrà pensato che mi riferissi alle cappa che corrono dietro ai maschi. Fatto sta che nella disputa si è immischiata anche una zia che non va troppo d'accordo con mia madre ed è scoppiato il putiferio. Mio padre, poi, è sempre ubriaco, e non appena ha sentito quella discussione ha iniziato a picchiare tutti senza distinzione. Come se la situazione non fosse già abbastanza brutta, in quel momento è arrivato mio fratello, ha rubato il portafoglio a mia madre ed è corso al cinema a vedere un film veramente, io, io. Rep smise di parlare e scoppiò a piangere, tenendosi il viso tra le mani. Ovviamente provai pena per lui, e allo stesso tempo mi ricordai del disprezzo che aveva il poeta Toc nei confronti del sistema familiare. Feci del mio meglio per consolarlo, dandogli dei colpetti sulla spalla. Queste cose succedono dappertutto. Dai, fatti forza. Se solo, se solo non mi fosse marcito il becco. Per quello non c'è più niente da fare. Coraggio, andiamo a trovare Toc. Il signor Toc mi disprezza, perché non ho il coraggio di abbandonare la mia famiglia come invece ha fatto lui. E allora andiamo a trovare Krabak. Dopo quel concerto io e Krabak eravamo diventati amici, così avevo deciso di portare rap dal grande musicista. Rispetto a Toc, Krabak conduceva una vita più sfarzosa, ma questo non significa che vivesse come il capitalista Gair. Possedeva molti pezzi d'antiquariato, statuette di tanagra e ceramiche di Persia, e in mezzo a una stanza aveva un divano turco dove giocava con i suoi figli, proprio sotto a un quadro che lo ritraeva. Quella volta però lo trovamo seduto con le braccia concerte e un'espressione triste. Vicino ai suoi piedi c'era una distesa di cartacce. Anche Rep veniva spesso a trovare Krabak, accompagnato dal poeta Toc. Ma stavolta, a vederlo così alterato, si limitò a salutarlo con cortesia, poi rimase in silenzio, seduto in un angolo. Che succede, Krabak, chiesi al grande musicista, quasi senza salutarlo. Che succede? Succede che quel critico è un idiota. Dice che le mie poesie non sono nemmeno da accostare a quelle di rock. Ma, tu sei un musicista. Se fosse solo per questo potrei ancora tollerarlo. Ma dice che, al confronto di rock, non posso essere definito nemmeno un musicista. Rock era un musicista che veniva spesso paragonato a Krabak ma, non facendo parte del circolo dei Super K, non avevo mai avuto modo di incontrarlo. L'avevo visto solo in foto, aveva un volto particolare, con il becco rivolto all'insù. Anche rock è geniale, ma nella sua musica non c'è traccia di quella passione moderna che caratterizza la tua. Lo pensi davvero? Lo penso e come? Improvvisamente Krabak balzò in piedi, afferrò una delle statuette di Tanagra e la scagliò a terra. Rap urlò tutto spaventato, ed era sul punto di correre via ma Krabak ci fece un cenno come a dirci niente paura, e replicò, un po' freddamente, perché tu non hai l'orecchio di quelli che se ne intendono. Io ho paura di rock. Tu? Smettila con questa falsa modestia. Falsa modestia? Se così fosse non la mostrerei a voi, ma ai critici. Io, Krabak, sono un genio, e su questo punto rock non mi fa paura. Cos'è che ti spaventa, allora? Qualcosa di sfuggevole. Come dire, la stella che guida rock? MMMH, non ti seguo. Mettiamola così, rock non è influenzato da me, mentre lui influenza spesso ciò che faccio io. Ma questo dipende dalla tua sensibilità. Ascolta, non è una questione di sensibilità. Rock, nel limite delle sue possibilità, è sempre soddisfatto del suo lavoro, mentre io sono costantemente irrequieto. Magari lui nemmeno se ne accorge, ma quella che per lui potrebbe essere la differenza di un passo per me è una differenza di dieci chilometri. Ma, maestro, la vostra eroica. Krabak, stringendo ancora di più gli occhi, guardò rap irritato, touch. Tu che ne sai? Io lo conosco, rock. Lo conosco meglio anche di quei leccapiedi che si prostrano sempre davanti a lui. Adesso calmati, però. Lo farei, se potessi. Ci spero sempre. Invece qualcosa di ignoto mi ha messo davanti rock per prendermi in giro. A me, Krabak. Perfino il filosofo Meg l'ha capito, lui che è sempre a leggere vecchi libri alla luce di quella lanterna di vetro colorato. Come sarebbe? Dai un'occhiata al libro che ha scritto ultimamente, le parole di un idiota. Krabak mi porse il testo. O meglio, me lo lanciò. Poi incrociò nuovamente le braccia e disse, beh, arrivederci allora. Mi ritrovai di nuovo per strada con il Mesto Rap. Come prima, all'ombra degli Olmi si susseguiva una serie ininterrotta di negozi. Passeggiavamo senza dire una parola quando apparve il poeta Tok, con i suoi capelli lunghi. Non appena ci vide tirò fuori un fazzoletto dalla tasca della pancia e se lo passò più volte sulla fronte. Ehi, da quanto tempo? Sto andando a trovare Krabak. Non lo vedo da un po'. Siccome sarebbe stato spiacevole far litigare due artisti, in qualche modo feci capire a Tok che Krabak era piuttosto di cattivo umore. Davvero? Allora non vado. Gli sarà venuto un esaurimento nervoso. Anch'io sono due o tre settimane che non dormo. Capisco. Senti, vuoi fare due passi con noi? No, oggi no. Oh! Tok urlò, afferrandomi il braccio. In un attimo tutto il suo corpo era ricoperto di sudore freddo. Che ti succede? Già, che cosa vi succede? Mi è parso di vedere come la testa di una scimmia spuntare dal finestrino di quell'auto. Quell'uscita mi preoccupò, così gli consigliai di andarsi a far visitare dal medico Cech. Ma Tok non sembrò per niente accettare il mio invito. Anzi, ci squadrò con diffidenza, poi rispose, guardate che io non sono affatto un anarchico, fareste bene a non dimenticarvelo. Tanti saluti, a voi e a Cech. Stupefatti, lo seguimmo con lo sguardo mentre si allontanava. Anzi, sbaglio a parlare al plurale. Perché a un certo punto lo studente Rep si era allontanato e si era piegato a testa in giù, a guardare attraverso le sue gambe le persone e le macchine che transitavano per la strada. Lo rimisi in piedi, pensando che fosse impazzito pure lui. È uno scherzo? Che stai facendo? Ma Rep, fregandosi gli occhi, mi rispose con una calma che non mi aspettavo, sono un po' depresso, così ho provato a guardare il mondo alla rovescia. Ma rimane sempre lo stesso. Undici, queste sono alcune righe tratte dalle parole di un idiota, scritto dal filosofo Meg. Un idiota è sempre convinto che siano tutti idioti tranne lui. Il nostro amore per la natura è dovuto al fatto che questa non ci odia e non prova gelosia nei nostri confronti. Condurre una vita saggia significa disprezzare i costumi del proprio tempo, ma vivere comunque senza infrangerli. Ciò di cui andiamo più orgogliosi è solo ciò che possediamo. Nessuno è contrario all'iconoplastia. E tuttavia, non c'è nemmeno nessuno contrario a diventare un idolo. Ma coloro che sono meglio assisi sul piedistallo dell'idolatria sono proprio quelli benedetti dagli dèi, gli idioti, i malvagi e gli eroi. Krabak aveva fatto un segno con l'unghia su queste righe. Forse le ideologie necessarie per la nostra vita si sono già esaurite due o tremila anni fa e magari stiamo solamente portando fuoco nuovo a della legna vecchia. La nostra caratteristica più peculiare è trascendere la coscienza di noi stessi. La felicità va a braccetto con il dolore. E se la pace andasse a braccetto con la noia? Proteggere se stessi è molto più complicato di proteggere gli altri. Avete dei dubbi? Prendete gli avvocati. Superbia, lussuria, dubbio. Ogni male che abbiamo avuto da tremila anni a questa parte proviene da queste tre premesse. E forse anche ogni bene. Non sempre soffocare il desiderio materiale conduce alla pace. Per ottenere la pace occorre soffocare anche il desiderio spirituale. Krabak aveva fatto un segno con l'unghia anche su questo passaggio. Noi siamo più infelici degli esseri umani. Perché loro non sono evoluti come noi. Quando l'olessi, istintivamente mi venne da ridere. Fare significa realizzarsi. E realizzarsi significa fare. Alla fin fine le nostre vite non riescono a districarsi da questo circolo vizioso. In poche parole, è una continua assurdità. Quando Baudelaire si rincretinì, definì la sua visione della vita con una sola parola, vagina 81. Ma non è necessariamente questa la parola che lo descrive meglio. La sua genialità sta nel fatto che, per aver fatto affidamento esclusivamente sul proprio talento poetico per mantenersi, si scordò la parola, stomaco. Anche su questo brano c'era il segno evidente dell'unghia di Krabak. Se volessimo basare tutto sulla ragione dovremmo necessariamente negare la nostra stessa esistenza. Voltaire giunse felice al termine della sua vita perché fece della ragione la sua e questa è la prova che noi K siamo più evoluti degli esseri umani. 12. Era un pomeriggio molto freddo. Mi ero scocciato di leggere le parole di un idiota ed ero uscito per andare a trovare il filosofo Meg. In un angolo di un triste quartierino vidi un K smunto come una zanzara. Era appoggiato a un muro e aveva lo sguardo assente. Caso vuole che fosse proprio il K che qualche tempo prima mi aveva rubato la stilografica. Evviva, pensai, così chiamai un erboruto poliziotto che passava di lì proprio in quel momento. Potrebbe interrogare quel K laggiù? Nemmeno un mese fa mi ha rubato la penna stilografica. Il poliziotto alzò il bastone che teneva nella mano destra, in quel paese al posto della spada i poliziotti portano un bastone di cipresso, e chiamò il K. Ehi, tu! Ero convinto che il K sarebbe scappato via. Invece si avvicinò al poliziotto con fare inaspettatamente tranquillo. Anzi, a braccia concerte si mise a guardare negli occhi me e la gente con uno sguardo strafottente. Il poliziotto però non si arrabbiò e dalla tasca sulla pancia tirò fuori un tacquino per cominciare il suo interrogatorio. Come ti chiami? Group. Che lavoro fai? Ero un postino fino a due o tre giorni fa. Bene. Questo signore sostiene che gli hai rubato la penna stilografica. Sì, gliel'ho rubata quasi un mese fa. E per quale motivo? Volevo farne un giocattolo per mio figlio. Tuo figlio? Gli chiese il poliziotto, guardandolo per la prima volta con uno sguardo tagliente. Sì. È morto giusto una settimana fa. Hai con te il certificato di morte? Il K smunto tirò fuori dalla tasca un foglio di carta. Dopo averlo letto il poliziotto sorrise e gli diede una pacca sulla spalla. Molto bene. Ti ringrazio. Fissai il poliziotto, sbalordito, mentre il K si allontanò biascicando qualcosa alle nostre spalle. Alla fine mi feci coraggio e gli chiesi, perché diavolo non l'ha arrestato? Quel K non ha fatto niente di male. Ma se mi ha rubato la stilografica? Voleva farne un giocattolo per il figlio, ma suo figlio è morto. Avete dei dubbi? Controllate il codice penale, articolo 1285. Tagliò corto il poliziotto, allontanandosi a passo svelto. Così mi affrettai ad andare da Meg, ripetendomi ossessivamente, codice penale, articolo 1285. Il filosofo Meg amava avere ospiti in casa, e anche in quel momento, nella sua stanza in penombra, c'erano il giudice Pep, il medico Cech e il presidente della vetreria Gair, e stavano tutti fumando delle sigarette illuminati dalla luce della lanterna dai vetri arcobaleno. La presenza del giudice Pep capitava proprio a Fagiolo. Ma non appena mi sedetti, invece di parlargli dell'articolo 1285 li chiesi, scusami Pep, ma in questo paese i delinquenti non li punite? Pep, sbuffando il fumo della sigaretta dal suo bocchino dorato, mi rispose con un tono indifferente, certo che li puniamo. Abbiamo persino la pena di morte. Però neanche un mese fa. Dopo avergli spiegato la storia nel dettaglio gli domandai dell'articolo 1285 del codice penale. Ah! Come spiega qui, una volta estinta la causa di ogni tipo di reato si determina l'estinzione del reato stesso, e l'autore del reato non è più perseguibile. Nel tuo caso, all'inizio quel K era un padre, ma visto che ora non lo è più naturalmente anche il suo reato non esiste più. Non mi sembra granché logico. Lo è e come? Considerare quel K allo stesso modo di quando era un padre, quello sì, sarebbe illogico. Ah, capisco, è quello che fa la legge giapponese, vero? Per noi è veramente buffo. Oh oh! Pep gettò via la sigaretta e si lasciò sfuggire una risata sommessa. A quel punto intervenne Cech, che di legge aveva solo qualche infarinatura. Si sistemò gli occhiali sul becco e mi chiese, in Giappone avete la pena di morte? Certo! Per impiccagione. Ero abbastanza irritato dall'indifferenza mostrata da Pep, così ne approfittai per ironizzare un po'. La pena di morte di questo paese sarà sicuramente molto più civile di quella giapponese, giusto? Certo che è più civile, mi rispose lui tranquillo. Nel nostro paese non impicchiamo. A volte usiamo l'elettricità, ma di solito non ci serve nemmeno quella. Ci basta dire ai condannati il nome del loro reato. Basta questo a far morire un K? Certamente. I nostri processi nervosi sono più delicati dei vostri. E non funziona solo con le condanne a morte. A volte qualcuno usa questo metodo per commettere degli omicidi e v'aggiunse il presidente Gair con un sorriso affabile. Aveva il viso tutto viola per la luce del vetro colorato della lampada. Qualche tempo fa per poco non mi veniva un colpo perché un socialista mi ha detto, ladro di merda. Succede più spesso di quanto si crede. Un avvocato di mia conoscenza è morto proprio per questo motivo. Mi voltai verso il filosofo Meg. Era lui ad aver parlato. Sempre con il suo solito sorriso ironico sulla faccia continuò senza rivolgersi a nessuno in particolare. Qualcuno gli aveva dato della rana. Saprete di certo anche voi che in questo paese essere chiamati rana equivale a essere considerati delle bestie. Sono davvero una rana? O non lo sono? Si fece queste domande per giorni, fino a quando non morì. In poche parole si è suicidato. Un K gli aveva dato della rana con l'intenzione di ucciderlo, eppure voi continuate a vederlo come un suicidio. Meg stava per finire la frase quando improvvisamente nell'aria riecheggiò il suono tagliente di un colpo di pistola. Proveniva da fuori, quasi sicuramente dalla casa del poeta Tok. Tredici, corremmo tutti a casa di Tok. Era steso sulla schiena, davanti a un vaso di piante alpine, dal piatto sopra la testa usciva del sangue e nella mano destra stringeva una pistola. Accanto a lui c'era una K che piangeva forte, con la testa nascosta nel suo petto. La aiutai a alzarsi, anche se non mi piaceva molto toccare con le mani la pelle viscida dei K, e le chiesi cos'era successo. Non ne ho idea. Stava scrivendo qualcosa, poi a un tratto si è sparato in testa. E adesso cosa faccio? QRRRR QRRRR. I K piangevano così. Tok è stato proprio egoista, disse al giudice. C'è Pep il presidente della vetreria Gair, scuotendo la testa sconsolato. Ma Pep non disse una parola e si accese una sigaretta dal bocchino dorato. Check, che fino a quel momento era stato in ginocchio a esaminare la ferita di Tok, proprio come un dottore, dichiarò a noi altri cinque, non c'è più nulla da fare. Tok ha sempre avuto problemi di stomaco, e già gli bastava quello per cadere spesso in depressione. Pare che abbia lasciato scritto qualcosa e bisbigliò tra sé e sé il filosofo Meg prendendo dalla scrivania un foglio di carta, come per giustificarsi. Tutti allungarono il collo, io ero l'eccezione, sopra le larghe spalle di Meg per dare un'occhiata al foglio. È tempo di andarsene verso una valle al di là di questo mondo dove le rocce sono massicce e i ri di montagna puri. L'erbe rigogliose Meg si voltò verso di noi e disse con un sorriso amaro, è un plagio del mignon di Ghete. Tok si è suicidato perché aveva esaurito l'ispirazione poetica. Caso vuole che in quell'istante arrivasse il musicista Krabak con la sua auto. Non appena vide la scena si fermò sull'uscio per qualche istante, poi camminò verso di noi e tutto agitato si rivolse a Meg, quello è il testamento di Tok. No, è la sua ultima poesia. Una poesia? Meg, senza scomporsi, diede il foglio con la poesia a Krabak, che invece era tutto scapigliato. Senza prestare attenzione a ciò che aveva attorno iniziò a leggere la poesia con passione. E quasi non rispondeva nemmeno alle domande di Meg. Cosa pensi della morte di Tok? È tempo di andarsene. Beh, nemmeno io so quando morirò. Verso una valle al di là. Ma tu eri molto amico di Tok, giusto? Molto amico? Tok è sempre stato un solitario. Verso una valle al di là di questo mondo. Ed era anche infelice. Dove le rocce sono massicce. Infelice. I rii di montagna puri. Voi siete tutti felici. Dove le rocce sono massicce. Provavo molta pena per quella K che ancora non aveva smesso di piangere, così le appoggiai delicatamente le mani sulle spalle e la accompagnai sul divano in un angolo della stanza. Lì c'era un piccolo K di due o tre anni, sorridente e ignaro di tutto. Giocai un po', con lui al posto della K. In quel momento sentii i miei occhi bagnarsi di lacrime. Fu l'unica volta in cui piansi durante la mia permanenza in quel paese. Deve essere davvero una pena convivere con dei K così egoisti. Perché non pensano a cosa potrebbe succedere dopo, rispose il giudice Pepp al capitalista Geyer, mentre si accendeva un'altra sigaretta. Quando a un tratto fumo tutti spaventati dal grido di Krabak. Mentre stringeva in mano il foglio con la poesia, urlò, senza rivolgersi a nessuno in particolare, e viva! Scriverò un magnifico requiem. Con i suoi occhi piccoli e ardenti Krabak sfiorò appena la mano di Meg e balzò fuori dall'uscio. Naturalmente attorno alla casa si era già radunata una moltitudine di K che vivevano nelle vicinanze. Erano di fronte all'entrata e guardavano dentro incuriositi. Krabak però li spinse via da entrambi i lati e saltò agilmente sulla macchina, che rombò via in un istante. Via! Via! Non c'è niente da guardare! Il giudice Pepp si sostituì ai poliziotti, disperse i curiosi e chiuse la porta. Nella stanza si fece subito silenzio. In quella tranquillità, mentre il profumo delle piante alpine si mescolava con l'odore del sangue di Tok, parlammo di cosa avremmo fatto dopo. Solo il filosofo Meg sembrava rimuginare su qualcosa, mentre continuava a fissare il cadavere di Tok. Gli diedi un colpetto su una spalla e gli chiesi, a cosa pensi? Alla vita dei K. In che senso alla vita dei K? Noi K, per vivere la nostra vita di K. Meg abbassò la voce, come se si vergognasse, crediamo in qualcosa che è diverso da noi. 14. Le parole di Meg mi fecero ricordare la religione. Essendo io un materialista, sono abbastanza sicuro di non aver mai seriamente riflettuto su di essa. Ma visto che la morte di Tok mi aveva molto impressionato mi venne voglia di sapere quale fosse la religione dei K. Andai subito a chiederlo allo studente rap. Ci sono il cristianesimo, il buddismo, l'islamismo, il zoroastrismo. Ma la religione che ha più potere è il modernismo, detto anche vitalismo. Forse la traduzione vitalismo non è del tutto esatta. L'originale è quemucha, ciasta per ismo, quemu è un verbo, all'infinito quemal, che oltre a vivere significa anche mangiare, bere alcol, fare l'amore. Quindi anche in questo paese ci sono chiese e templi? Ma certo! Il grande tempio del vitalismo è l'edificio più grande che abbiamo. Vi va di andare a visitarlo? Così un pomeriggio tiepido e nuvoloso rap mi accompagnò tutto contento a visitare il grande tempio del vitalismo. Era veramente enorme, dieci volte più grande della chiesa di San Nicolai 82. In quel grande edificio c'erano tutti gli stili architettonici. Quando me lo trovai di fronte e vidi le sue alte torri e le cupole provai una sensazione sgradevole, era come vedere innumerevoli tentacoli che si allungavano verso il cielo. Per qualche istante restammo fermi davanti al portale, quanto eravamo piccoli al suo confronto, e osservammo il tempio. Più che un edificio sembrava una qualche sorta di mostro raro. Il tempio era enorme anche all'interno. C'erano alcuni fedeli che passeggiavano tra le colonne corinzie. Proprio come noi, al loro confronto apparivano minuscoli. Poco dopo incontrammo un K tutto curvo su se stesso. Rap chinò leggermente la testa e gli disse con gentilezza, sono felice di vedervi così in forma, reverendo anziano. Il K si inchinò a sua volta e gli rispose con altrettanta cortesia. Oh, Rap, da quanto tempo! Vedo che anche voi! Mentre parlava ebbe un'esitazione, perché si accorse del becco marcito di Rap, oh, comunque sembrate stare bene. Qual buon vento vi porta qui oggi? Sto accompagnando questo signore. Forse lo conoscete già. Rap gli parlò a lungo di me. Ebbi anche l'impressione che volesse come giustificarsi di non andare molto al tempio. Vorrei che gli faceste da guida. L'anziano mi salutò con un gran sorriso e, senza dire una parola, mi indicò l'altare di fronte a noi. Vi farò da guida, anche se non servirà a molto. Noi credenti preghiamo l'albero della vita, che si trova sull'altare principale qui di fronte. Come potete vedere, sull'albero ci sono un frutto d'oro e un frutto verde. Il frutto d'oro è detto «frutto del bene», mentre quello verde è detto «frutto del male». A sentire quelle spiegazioni cominciai ad annoiarmi, perché le parole di quel gentile vecchietto suonavano come quelle di qualche antica parabola. Ovviamente fingevo di ascoltarlo con attenzione, ma ogni tanto guardavo di nascosto il resto del tempio. Le colonne corinzie, le cupole gotiche, il pavimento arabbeggiante a quadri e i banchi in stile secessione. L'armonia che andavano a creare aveva una bellezza in qualche modo selvaggia. Ma ciò che più catturò la mia attenzione furono i busti in marmo nelle nicchie su entrambi i lati dell'edificio. Mi sembrava di averli già visti, e infatti non mi sbagliavo. Quando quel cup a tutto curvo finì la sua spiegazione sull'albero della vita, si spostò assieme a me e al rap di fronte a una delle nicchie e iniziò con la spiegazione che segue «Questo è uno dei nostri santi», San Strindberg 83, colui che si ribellò a tutto. Si dice che, dopo tante tribolazioni, si salvò grazie alla filosofia di Swedenborg 84. Ma in realtà non si salvò mai. Egli credeva solo nel vitalismo, proprio come noi. O meglio, non aveva altra scelta che crederci. Provate a leggere le leggende che ci ha lasciato. Lui stesso ammette di aver tentato il suicidio. La cosa mi aveva depresso, così spostai lo sguardo sull'altra nicchia. C'era il busto di un tedesco dai baffi spessi. Quello è Nice, il poeta dello Zarathustra. Questo santo cercò la salvezza nel superuomo che lui stesso aveva creato. Ma chiaramente non la trovò e alla fine impazzì. Eppure, se non fosse impazzito così malamente, forse non sarebbe mai riuscito a finire tra questi santi. Il vecchio rimase in silenzio per qualche istante, poi mi accompagnò verso la terza nicchia. Il terzo santo è Tolstoi. Lui ha vissuto la vita più ascetica di tutti perché, essendo un aristocratico, non poteva mostrare ai curiosi la propria sofferenza. Questo santo cercò in tutti i modi di credere in Cristo, ma non ci riuscì mai per davvero. Addirittura disse pubblicamente di essere un credente, ma nei suoi ultimi anni non riuscì più a sopportare il patetico bugiardo che era stato. È risaputo che a volte avesse paura delle travi del suo studio. Ma visto che si trova qui tra i santi, egli non morì suicida. Il busto nella quarta nicchia era di un giapponese. Non appena vidi i lineamenti del suo viso provai un'intensa nostalgia. Questo è Kunikida dopo 85. Era un poeta che conosceva nitidamente cosa provavano i poveretti che morivano sotto un treno. Ma sono sicuro che non abbiate bisogno di altre spiegazioni su di lui, per cui vi prego di osservare la Q. Winta nicchia. Non è Wagner quello? Proprio così. Era un rivoluzionario amico del sovrano del suo paese. Nei suoi ultimi anni addirittura pregava prima di mangiare, ma credeva più nel vitalismo che nel cristianesimo. Stando alle sue lettere, questo mondo di sofferenza ha condotto più volte il santo sulla soglia della morte. Eravamo già arrivati davanti alla sesta nicchia. Questo santo è un amico di Strindberg. Era un pittore francese, ex commerciante, che abbandonò la moglie e i molti figli per sposare una ragazza di Tahiti di 13 o 14 anni. Nelle sue possenti bene scorreva un sangue di marinaio. Ma osservate le sue labbra, vi sono tracce di Arsenico 86. Mentre nella settima nicchia. Oh, ma vedo che siete stanco. Vi prego, da questa parte allora. In effetti ero stanco, così assieme a Rep seguì il vecchio lungo un corridoio che odorava d'incenso e ci ritrovammo in una stanza. In un angolo di quella stanzetta c'era la statua di una venere nera. Ai suoi piedi c'era un grappolo d'uva selvatica. Fui un po' spiazzato perché mi immaginavo la tipica cella spoglia dei sacerdoti. Probabilmente il vecchio intuì i miei pensieri e, prima di farci sedere, mi spiegò quasi come a volersi scusare, non dimenticatevi che la nostra religione è il vitalismo. Il nostro Dio, attraverso gli insegnamenti dell'albero della vita, ci dice di «vivere con pienezza». Rep, gli avete mostrato le nostre sacre scritture? No. Per la verità non le ho quasi mai lette nemmeno io. Rispose con candore Rep, grattandosi il piatto sulla testa. Ma l'anziano continuava a mostrare il suo placido sorriso. Allora forse non capirete. Il nostro Dio ha creato il mondo in un giorno, l'albero della vita è sì un albero, ma non c'è niente che non si è in grado di fare, poi ha creato la femmina K. Quando la femmina ha iniziato ad annoiarsi ha cominciato a desiderare un maschio K. Così il nostro Dio, mosso a compassione, prese il cervello della femmina e da esso creò il maschio, poi benedisse entrambi, mangiate, fate l'amore, vivete con pienezza. Le parole dell'anziano mi ricordarono il poeta Toc. Sfortunatamente Toc era un ateo come me. Non essendo un K era logico che io non fossi a conoscenza del vitalismo, ma Toc, che in quel paese ci era nato, avrebbe dovuto sapere dell'albero della vita. Alla fine provai così pena per lui, che non aveva seguito questa religione, che iniziai a raccontare la sua storia per far smettere di parlare l'anziano. Egli rimase ad ascoltarmi, poi sospirò profondamente, ah, quel povero poeta. Ciò che determina il nostro destino sono la fede, l'ambiente che ci circonda e il caso, è vero, a voi insegnano che c'entra anche l'ereditarietà. E purtroppo ciò che mancava a Toc era la fede. Forse Toc vi invidiava. E anch'io vi invidio. Rap è ancora giovane, perciò. Se avessi ancora il mio becco forse sarei più ottimista. A sentire le nostre parole il vecchio sospirò nuovamente, mentre i suoi occhi bagnati di lacrime fissavano la venere nera. In realtà, e questo è un segreto, vi prego di non dirlo a nessuno, in realtà nemmeno io riesco ad avere fede nel nostro Dio. Ma prima o poi, a forza di pregare. Proprio in quel frangente la porta della stanza si aprì improvvisamente e una grossa K balzò addosso al vecchio. Naturalmente cercammo di afferrarla, ma in un batter d'occhio aveva già messo spalle a terra l'anziano. L'urido vecchiaccio, mi hai rubato i soldi per farti un bicchierino anche oggi, eh. Neanche dieci minuti dopo eravamo scesi all'ingresso del grande tempio, quasi fuggendo, lasciandoci alle spalle quella coppia di vecchi K. Ora capisco perché nemmeno lui riesce ad aver fede nell'albero della vita, mi disse Rep passeggiando, dopo essere rimasto per qualche istante in silenzio. Io però, invece di rispondergli, mi voltai istintivamente. Le cupole e le alte torri del tempio si allungavano verso il cielo plumbeo come innumerevoli tentacoli che fluttuavano, inquietanti come quei miraggi che si vedono nel cielo del deserto. 15, più o meno una settimana dopo mi capitò di sentire dal medico Cech una storia insolita, nella casa di Toc era apparso un fantasma. In quel periodo la cappa che viveva con lui si era già trasferita altrove e la casa del nostro amico Toc era diventata uno studio fotografico. Cech mi raccontò che quando si facevano foto in quello studio alle spalle delle persone immortalate appariva indistinta la figura di Toc. Cech, che era un materialista, non credeva affatto alla vita dopo la morte, per cui anche in quell'occasione sorrise Beffardo e commentò, si vede che anche l'anima è materiale, allora. Come Cech, nemmeno io credo nell'esistenza dei fantasmi, ma visto che Toc era mio amico corsi subito in una libreria per comprare le riviste e i quotidiani che avevano pubblicato articoli e foto del suo fantasma. E in effetti, a guardarle bene, alle spalle dei cappa ritratti nelle foto appariva sempre la figura vaga di un cappa simile a Toc. Ma a sorprendermi non furono tanto le foto del fantasma, quanto gli articoli a esso dedicati, in particolare la relazione dell'associazione di metapsichica. Visto che l'ho tradotto quasi letteralmente, ho deciso di trascriverne il riassunto. Le frasi tra parentesi sono i commenti del sottoscritto. Relazione sul fantasma del poeta Toc, citato dal fascicolo numero 8274 dell'associazione di metapsichica. L'associazione di metapsichica ha riunito una commissione speciale di investigazione in via OO 251 nello studio del fotografo ventesimo, nei cui locali risiedeva il poeta Toc, suicidatosi di recente. Seguono i nomi dei presenti, o metto i nomi. Noi 17 membri, insieme al signor Peck, presidente dell'associazione di metapsichica, e alla nostra medium più fidata, la signora Hop, ci siamo riuniti in una delle stanze del suddetto studio alle ore 10 e 30 del mattino del 17 settembre. Non appena la signora Hop è entrata nello studio ha immediatamente avvertito un'atmosfera spiritica e ha iniziato ad avere spasmi in tutto il corpo e a vomitare ripetutamente. Stando al racconto della signora Hop, poiché il poeta Toc era un accanito fumatore e persino l'atmosfera spiritica era intrisa di nicotina. Ci siamo seduti in silenzio attorno a un tavolo rotondo insieme alla signora Hop, e dopo 3 minuti e 25 secondi la donna è caduta improvvisamente in uno stato di sonno cosciente ed è stata posseduta dallo spirito del poeta Toc. Seguendo l'ordine di età degli astanti, abbiamo iniziato una conversazione con lo spirito di Toc attraverso la possessione della donna. Domanda, perché ti manifesti di nuovo come fantasma? Risposta, voglio notizie sulla mia fama dopo che sono morto. D. Tu, o meglio, voi spiriti volete essere famosi anche dopo essere morti? R. Beh, io perlomeno voglio esserlo. Però il più famoso poeta giapponese, che ho incontrato qui per caso disdegna la fama dopo la morte. D. Puoi dirci il nome di questo poeta? R. Purtroppo me lo sono scordato. Però mi ricordo una di quelle sue poesie di 17 sillabe 87 che amava comporre. D. E come fa quella poesia? R. Vecchio stagno, una rana si tuffa, suono dell'acqua. D. Secondo te è bella? R. Secondo me non è necessariamente brutta. Ma se avesse detto, K, al posto di, rana, sarebbe stata molto migliore. D. E per quale motivo? R. Perché per noi K è molto importante apparire in qualsiasi tipo di arte. A quel punto intervenne il presidente Peck, facendo notare ai 17 membri che quella era una commissione di investigazione, non un convegno di critici. D. Com'è la vita da fantasmi? R. Non è diversa dalla vostra. D. Allora ti sei pentito di esserti suicidato? R. Non è che me ne penta. Se dovessi stancarmi della vita da fantasma prenderò una pistola e resusciterò. D. Resuscitare è facile o è difficile? Toki rispose con una domanda simile, ma per chi lo conosceva, suonò come una risposta del tutto naturale. R. Suicidarsi è facile o difficile? D. La vita di voi spiriti è eterna? R. Sulla nostra vita ci sono opinioni contrastanti. Ma non dimenticatevi che per fortuna anche qui da noi ci sono religioni come il cristianesimo, il buddismo e lo zoroastrismo. D. Tu in cosa credi? R. Io sarò sempre uno scettico. D. Però quantomeno non avrai dubbi sull'esistenza dell'anima, giusto? R. Ho tanti dubbi quanti ne avete voi. D. Hai degli amici lì? R. Non meno di 300, di ogni luogo e tempo. Tra le mie conoscenze illustri ci sono Kleist, Mainlander, Weininger, 88D, hai amici solo tra i suicidi? R. Non solo tra loro. Montesquieu, che comunque difendeva il suicidio, è un mio buon amico. Eppure ad esempio non frequento Skopenhauer, un pessimista che si è suicidato. D. Skopenhauer sta bene? R. Ha fondato il pessimismo metapsichico e al momento sta valutando i pro e contro dell'autosufficienza. E quando ha scoperto che il colera è una malattia batterica si è sentito molto sollevato. Continuamo a fargli domande per avere notizie sugli spiriti di Napoleone, Confucio, Dostoevskij, Darwin, Cleopatra, Buddha, De Mostene, Dante, se no Ricchiotto 9, ma purtroppo Tok, invece di darci qualche dettaglio in più, ci fece a sua volta delle domande sui pettegolezzi che giravano sul suo conto. D. Cosa hanno detto di me dopo la mia morte? R. Un critico ti ha definito un poeta insignificante. D. È uno di quegli invidiosi a cui avevo inviato una mia selezione di poesie. A proposito, hanno pubblicato la mia raccolta completa? R. L'hanno pubblicata, ma non è che stia vendendo troppo. D. Fra 300 anni, quando saranno scaduti i diritti di pubblicazione, la compreranno tutti. E cosa mi dite di quella mia amica con cui convivevo? R. Si è sposata con il libraio Lack. D. Se solo sapesse che Lack ha un occhio di vetro. Mio figlio come sta? R. Pare che sia nell'orfanotrofio statale. Tok rimase in silenzio per qualche istante, poi riprese a fare nuove domande. D. È casa mia? R. È diventata lo studio di un fotografo. D. E che ne è stato della mia scrivania? R. Nessuno lo sa. D. In un cassetto di quella scrivania c'erano delle lettere che custodivo molto gelosamente. Ma non fa niente, siete tutti molto occupati. Qui nel mondo degli spiriti il sole è al tramonto e vi devo lasciare. Addio a tutti, amici. Non appena pronunciò quell'ultima parola la signora Hop si risvegliò improvvisamente. Noi 17 membri giuriamo nel nome del nostro Dio che questa conversazione è autentica. Inoltre il compenso per la fidata signora Hop corrisponde a quanto percepiva quando era un'attrice. 16. Dopo aver letto quella relazione cominciai a essere sempre più insofferente e mi venne voglia di tornare nel mio paese, tra gli esseri umani. Eppure, per quanto lo cercassi, non riuscì a trovare il buco da cui ero precipitato. Poco tempo dopo, parlando con il pescatore Begg, venni a sapere che nella periferia di quel paese c'era un vecchio che viveva tranquillo leggendo libri e suonando il flauto. Non so perché ma mi convinzi che se glielo avessi chiesto lui mi avrebbe fatto fuggire da lì, così mi affrettai ad andare a trovarlo. Ma una volta giunto sul posto, invece del vecchio trovai un giovane K di 12 o 13 anni, con il piatto sulla testa ancora non indurito, intento a suonare tranquillamente il flauto nella sua minuscola casetta. Ovviamente pensai di aver sbagliato casa, ma quando gli chiesi il nome per averne la conferma capii che si trattava proprio del vecchio di cui mi aveva parlato Begg. Ma avete l'aspetto di un bambino? Oh, ancora non lo sapete? Non so per quale scherzo del destino ma quando sono uscito dalla pancia di mia madre avevo tutti i capelli bianchi. Poi sono ringiovanito sempre più e ora sono un bambino. Se parliamo di età, mettiamo che quando sono nato avessi già una sessantina d'anni, ora avrò più o meno 115 o 116 anni. Mi guardai attorno nella stanza. Sarà stata una mia impressione, ma tra quelle sedie semplici e il tavolo io vedevo solo pura felicità. Voi conducete una vita molto più felice rispetto a quella degli altri K, non è così? MMMH, forse sì. Nella mia gioventù ero vecchio e nella mia vecchiaia sto ringiovanendo. Così non sono mai stato accecato dall'avidità dei vecchi, ne sono mai stato travolto dalla lussuria dei giovani. Per cui, più che felice, la mia è stata indubbiamente una vita serena. Deve essere stata davvero serena. Beh, ma non basta mica solo questo per vivere sereni. Godo di buona salute e per tutta la vita ho avuto denaro a sufficienza per procurarmi il pane senza preoccuparmi troppo. Ma la mia fortuna più grande è stata nascere vecchio. Gli raccontai per un po' del suicida Tocchi di Gae, che si faceva visitare dal medico ogni giorno. Eppure, non so perché, ma il viso del vecchio K pareva non mostrare alcun interesse. Allora voi non siete così attaccato alla vita, come invece lo sono gli altri K. Il vecchio K mi guardò negli occhi, poi rispose pacato, anch'io, come tutti gli altri K, uscii dal grembo di mia madre dopo che mio padre mi ebbe chiesto se volevo venire al mondo oppure no. Io invece sono precipitato in questo paese per caso. Vi prego, spiegatemi come fare ad andarmene da qui. C'è solo una strada per andarsene. E quale sarebbe? Quella da dove siete arrivato. Quando me lo disse, non so perché, ma mi venne la pelle d'oca. Purtroppo non riesco a trovarla. Il vecchio K mi guardò negli occhi con il suo sguardo fresco, poi si alzò in piedi, andò in un angolo della stanza e tirò una corda che pendeva giù dal soffitto. In quell'istante si aprì un lucernario, che non avevo notato fino a quel momento. Fuori da quella finestra rotonda si potevano scorgere i rami di pini e cipressi, e dietro di loro un cielo ceruleo. Non solo, ma con essi si stagliava, come la punta di una freccia, la cima del monte Yarigatake. Saltai di gioia come un bambino che aveva visto un aeroplano. Se volete potete andarvene da lì, mi disse il vecchio, indicandomi la corda. Quella che pensavo fosse una corda in realtà era una scala di corda. Allora uscirò da lì sopra. Però devo avvertirvi, se ve ne andate potreste pentirvene. Va tutto bene. Non me ne pentirò. Non avevo ancora finito di rispondergli che già mi stavo arrampicando sulla scala di corda, mentre dall'alto vedevo il piatto sulla testa del vecchio K allontanarsi sempre più. 17. Dopo aver lasciato il paese dei K, l'odore della pelle di noi esseri umani mi diede fastidio per qualche tempo. Rispetto a noi, i K sono molto più puliti. Inoltre dopo aver visto solo teste di K per molto tempo ora le nostre teste mi mettevano a disagio. Forse non capirete, ma oltre alla bocca e agli occhi il nostro naso mi faceva insolitamente paura. Per un po' riuscii a non incontrare nessuno, ma poco a poco mi riabituai agli esseri umani e nel giro di sei mesi ricominciai ad andare dappertutto. Solo una cosa mi imbarazzava, quando parlavo a volte mi sfuggivano parole nella lingua dei K. Domani sei a casa? Qua? Come? Scusa, volevo dire sì. Più o meno la situazione era quella. Era passato un anno da quando ero tornato dal paese dei K. Mi era andato male un affare, così. A quel punto intervenne il dottoresse, basta così, gli disse. Il dottore mi rivelò che quando raccontava quell'episodio, diventava così violento che non riuscivano a bloccarlo nemmeno gli infermieri. E va bene, allora non lo racconterò. Però dopo quell'affare è andato male decisi di tornare nel paese dei K. Proprio così, non ho detto andare, ma tornare, perché in quel periodo sentivo quel luogo come casa mia. Uscì di casa di nascosto per andare a prendere un treno della linea Cho, ma sfortunatamente fui catturato da un poliziotto e finì in questo ospedale, ma anche qui continuavo a pensare al paese dei K. Chissà che ne era stato del medico check. E chissà se il filosofo Meg continuava ancora a meditare sotto la luce della lanterna dai vetri colorati. E il mio amico dal becco marcito, lo studente rap? A questo stavo pensando in un pomeriggio nuvoloso. Mentre vagavo tra i miei ricordi, per poco non mi misi a gridare. Perché, senza che me ne accorgessi, davanti a me era apparso il pescatore Begg. Stava facendo su e giù con la testa, in segno di saluto. Quando tornai in me non ricordo se mi misi a ridere o a piangere. Quel che è certo è che mi emozionai a parlare nella lingua dei K dopo tanto tempo. «Ehi, Begg! Cosa ci fai qui? Sono venuto a visitarvi. Ho saputo che siete malato. Come lo hai saputo? L'hanno detto al notiziario alla radio, rise soddisfatto. E come hai fatto ad arrivare fin qui? Oh, è stato facile. Per i K i fiumi e i canali di Tokyo sono come delle strade. In quel momento mi ricordai che i K sono animali anfibi come le rane. Ma in questa zona non ci sono fiumi. È vero. Per arrivare fin qui sono passato nelle condutture. E ho aperto qualche idrante. Hai aperto gli idranti? Signore, anche tra noi K ci sono degli ingegneri. Ve ne siete scordato? Da allora, ogni due o tre giorni, iniziai a ricevere le visite di molti K. Per il dottoresse sono malato di schizofrenia, ma secondo il medico Cech, e questo forse potrebbe offendervi, tanto per cominciare non sono io a essere schizofrenico, ma il dottoresse e tutti voi. Oltre al medico Cech, ovviamente vengono a trovarmi anche lo studente Rep e il filosofo Meg. Ma di giorno, a parte il pescatore Begg, non viene a trovarmi nessuno. Quando vengono in due o tre lo fanno sempre di notte, specie quando c'è la luna. Infatti ieri notte ho chiacchierato al chiaro di luna con il presidente della vetreria Gaere e con il filosofo Meg. Una volta il musicista Krabac ha persino suonato il violino per me. Ecco, vedete quel mazzo di gigli neri sul comodino? Anche quelli me li ha portati Krabac ieri notte. Mi voltai a dare un'occhiata, ma ovviamente sul comodino non c'era nessun mazzo di fiori. E il filosofo Meg è venuto apposta per portarmi questo libro. Leggete pure la prima poesia. Ah, è vero, voi non conoscete la lingua dei K. Ve la leggerò io. È tratta dal primo volume della raccolta di poesie di Talk, pubblicata recentemente. Aprì un vecchio elenco telefonico e iniziò a recitare la poesia che segue. Tra i fiori delle palme e il bambù, riposa da tempo il Buddha, sul ciglio della strada, con un fico senza vita, anche Cristo sembra morto. Ma a noi tocca riposare, sullo sfondo di un palcoscenico. E se si guarda bene, si noterà che sul retro del palcoscenico ci sono soltanto tele piene di toppe. Ma io non sono pessimista come questo poeta. Finché dei K verranno a trovarmi di tanto in tanto. Ah, quasi dimenticavo. Ricordate quel mio amico, il giudice Pep? Dopo aver perso il lavoro lui è impazzito veramente, e ora è ricoverato in un ospedale psichiatrico del paese dei K. Se il dottoresse me lo permettesse vorrei andare a trovarlo.